50 anni della Fiera Antiquaria, celebrati con tante iniziative, però ovviamente la protagonista è lei, appunto, la fiera. E allora andiamo a sentire espositori e visitatori. San Francisco, California. Mi piace Arezzo, mi piace questo posto, è davvero bello. Ma questo è bello, è meraviglioso. Sta bene, è bello, sì. Se posso chiedere anche per comprare o solo per fare una visita? Ma fare una visita, poi magari anche per comprare. Gente c'è, ma non comprano e non chiedono. Sembra che stanno a un museo all'aria aperta. Cioè si viene per passeggiare e vedere, ma poi non si compra? Sì, poco. Ma questa è una cosa che riscontrate sempre o in questa? No, no, quando di solito fanno le altre cose insieme che ci stanno, altre cose di solito succede così. Perché viene distratto il visitatore? Ma perché non vengono di solito quelli che sono interessati all'antico ariato. Veniamo da Seregno, vicino Monza. Appositamente qua per la fiera? No, non per la fiera, siamo in gita turistica. Che ne pensate di questa manifestazione di Arezzo? Allora, la prima volta che la vedo è una bella cittadina, la manifestazione ci sta, va bene. Così così, gente tanta, per gli acquisti insomma un po' in difficoltà. Perché secondo te c'è pubblico che cerca l'antico ariato o no? Secondo me è un pubblico che non cerca l'antico ariato. È solo magari per fare la passeggiata, un giorno di festa, ma secondo me no. Rispetto alla dislocazione dei banchi che è stata un po' cambiata, cosa ne pensi? Su quello penso che il Comune di Arezzo abbia fatto molti errori, moltissimi anzi. Diciamo che oggi sono anche contenta perché è bella, proprio bella. Anche gente un po' interessata, sì sì, proprio bella. Si è riempita, proprio mi piace. Quindi un bel compleanno. Sì, sì, da parte mia sì.